La statua dell'uomo e della donna si guardano per anni in un parco quando a un certo punto un mago decide di dargli un'ora di vita le due statue si scondono subito dietro a due cespugli da dove vengono suoni, gemiti dopo 30 minuti escono fuori ridacchiando e il mago gli fa guarda, ne è rimasto ancora 30 minuti se volete fare un altro tentativo al che la statua maschio gli fa quella femmina vabbè stavolta voi tenete il piccione e gliele cago io in testa